parliamo di zagor parliamo dell'ultimo albo uscito per la colonna mensile ombre su golnor ma non parlerò solo di questo ho in serbo una chicca da farvi vedere sperando che possa interessarvi e che possa incuriosirvi buoni fumetti a tutti ringrazio tutti coloro che si sono iscritti al canale tutti coloro che mi hanno mandato dei commenti ai vari video tutti coloro che hanno guardato i miei video veramente grazie 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 vado subito sull'albo ombre su golnor qualche dato tecnico allora soggetto sceneggiatura luigi miniaco conosciuto sicuramente a tutti coloro da tutti coloro che frequentano le serie bonelli di miniaco ha scritto su diverse testate bonelli mi piace ricordare il suo apporto su mister no un apporto importante e da me molto apprezzato i disegni giuliano piccinino molto belli poi vi farò vedere alcune tavole la copertina alessandro piccinelli la il lettering omar tuis allora partiamo dalla copertina piccinelli come al solito sforna copertine eccezionali guardate la plasticità dei corpi come rappresenta proprio la tensione nervosa dei corpi è un disegnatore di altissimo livello tra l'altro una copertina che fa capire molto bene lo stato di tensione riferito a proprio una delle primissime sequenze dell'albo i disegni interni di piccinino mi sono piaciuti ha un uso dello scuro del nè dei toni neri a mio parere molto buono ha reso perfettamente la atmosfera cupa e tra necessaria per rappresentare il prologo di questo di questa storia di questo albo guardate che bella questa tavola è rappresentata molto bene anche la foresta di dark wood con delle tonalità scure veramente veramente ben rappresentate guardate questo sguardo terrorizzato no fra le frasche guardate che toni scuri molto bravo molto bello la storia è un fantasy la storia è un fantasy guardate ancora qualche tono scuro guardate questo volto con gli occhi sbarrati no veramente molto bello la sequenza iniziale di questo di questo albo a mio parere è magistrale dicevo la storia è un fantasy è un fantasy classico però classico alla zagor allora intanto già si vede il tono fantasy dal da questa pagina come vedete c'è la mappa in tantissimi fumetti fantasy non si prescinde da una mappa in cui vengono indicati i luoghi principali diciamo in cui si svolge l'avventura e qui questa storia non fa chiaramente eccezione dicevo perché è un fantasy particolare perché a mio parere la testata di zagor il personaggio zagor è talmente forte ha una personalità talmente radicata che per come la vedo io quando zagor affronta il genere horror il genere fantascientifico il genere western o anche come in questo caso il genere fantasy non è zagor che si che si piega e che diventa sottoposto al genere è il genere che si adatta a zagor secondo me cioè nel senso che il questo tipo di fantasy è un fantasy alla zagor secondo me perché dico questo perché io non so in quanti fantasy si possa ad esempio questo è un esempio tra i tanti ma non so in quanti fantasy si possa ritrovare una tribù di nativi americani all'interno di questo paese fiabesco cioè in mezzo a elfi creature troll orchi adesso non ricordo esattamente ma comunque tutte queste creature che fanno parte di questo mondo fatato in mezzo una tribù di nativi tra l'altro un nativo che cavalca un unicorno insomma sono sono quelle commistioni pop che fanno parte della storia di zagor e che a me piacciono a me piacciono ora sulla copertina potete notare di zagor che compare ancora il logo dei 60 anni di zagor cioè siamo ancora all'interno del dell'anno celebrativo dei 60 anni di zagor mi aggancio a questo dato per farvi vedere la chicca ho ritrovato nei meandri negli anfratti delle mie dei mie scaffali delle mie librerie stracolme di fumetti ho ritrovato questo album questo è un albo che era uscito in omaggio in allegato ad un numero di zenith zagor adesso vi dico esattamente quale allegato a zenith numero 482 del giugno 2001 quindi 21 anni fa circa per festeggiare i 40 anni di zagor guardate che bel regalo che avevano fatto cioè allegato all'albo mensile di zagor si trovava questo questa pubblicazione perché questa pubblicazione è fantastica perché contiene è una chicca che a sua volta contiene delle chicche rapidamente ve ne faccio vedere qualcuna intanto c'è ad esempio un autoritratto molto bello di gallieno che si ritrae chiaramente abbracciato a zagor e cicco si fa un po la storia di tutta la diciamo la testata di zagor sia da un punto di vista delle storie sia da un punto di vista di chi ha collaborato con la testata quindi gli sceneggiatori disegnatori eccetera eccetera qui c'è un'altra curiosità per esempio cioè il volto dell'attore robert taylor che è l'attore al quale si ispirarono si ispirò lo staff creativo credo soprattutto gallieno ferri per realizzare il volto di zagor ma ci sono ma vado veloce perché non voglio ma è veramente densissimo questo albo che ha scritto i testi sono di graziano frediani che ha fatto un buonissimo lavoro per esempio delle chicche fantastiche per esempio chi di voi si ricorda del going going questo animale stranissimo un incrocio tra un canguro una papera nei primi albi di zagor io mi ricordo che ogni tanto appariva questo stranissimo animale che mangiava di tutto e qui viene citato per esempio questo going going ci sono diversi adesso vado veloce perché questo albo è praticamente suddiviso in capitoli in cui si parla voi diciamo di zagor specificamente si può parlare anche di cico si può parlare delle fonti di ispirazione delle varie storie di zagor si parla degli sceneggiatori di disegnatori ad esempio tra le varie fonti di ispirazione guardate questa fotografia dove sono ritratti gli attori che interpretavano Gianni e Pinotto praticamente in italiano veniva tradotto come Gianni e Pinotto che facevano in questo caso praticamente una parodia del film la mummia o qualcosa del genere e vedete che sopra c'è praticamente il fumetto con cico che richiama chiaramente l'immagine del film Charlie Chaplin, Stan Laurel e Oliver Hardy ci sono molte citazioni delle fonti di ispirazione chiaramente delle storie di zagor poi poi ci sono ci sono delle immagini che mi hanno che mi hanno riportato veramente a tempi gloriosi di zagor guardate qua questa copertina mi dice niente odissea americana allora sono andato a riprendermi chiaramente io ho anche l'albo mensile ma me lo sono ricomperato così in formato brusurato grande a colori chi è che non ricorda questa storia allucinante veramente il viaggio allucinante la lotta di zagor con questi gorilloni era un viaggio praticamente un'odissea in cui zagor veniva coinvolto con anche cico chiaramente in mezzo a degli scenari altamente improbabili per esempio questo terreno in cui poi a un certo punto crolla tutto una storia fantastica fantastica disegnata da Gallieno Ferri una storia veramente di Sergio Bonelli Guido Nolitta una storia che secondo me è una delle migliori storie di zagor di tutti i tempi torno sull'albetto velocemente ci sono appunto articoli su vari per esempio vengono citati anche i nemici chiaramente di zagor i nemici molti dei nemici chiaramente il ruolo principale spetta al professor Ellingen un altro personaggio come si fa a prescindere da Ellingen cioè nella saga di zagor non si può prescindere da Ellingen credo sia il cattivo più più importante ecco della saga ce ne sono diversi ce ne sono diversi ma Ellingen insomma ha un peso nella saga che secondo me non è indifferente un'altra perla un'altra chicca che cosa guardate questa copertina tigre chi è che ricorda questa storia questa storia anche questa è pazzesca è pazzesca anche questa me la sono ripresa in formato a colori pur avendola anche già in mensile ma vi voglio far vedere una scena che credo molti di voi ricorderanno e cioè e cioè per esempio questa scena Zagor e Cico incatenati nelle segrete di questo palazzo e viene portata questa creatura con la testa di tigre no vittima di un incantesimo piuttosto crudele storie storie pazzesche veramente un tuffo nel passato che fa piacere insomma secondo me sempre in questo in questo albo che se riuscite a recuperarlo insomma vi consiglio di acquistare ci sono fotografie per esempio anche abbastanza curiosi per esempio guardate qua ecco qua Sandokan e c'è un po di riflesso scusate Sandokan e la perla di Labuan tutta roba insomma poi è chiaramente ecco poi ci sono degli articoli su chi ha sceneggiato su chi ha vedete ci sono per esempio c'è una rappresentazione per esempio di Tiziano Sclavi Colombo Toninelli insomma secondo me è stato un regalo molto molto bello molto piacevole questo per il quarantennale di Zagor secondo me è ancora reperibile è un secondo me è una bella chicca è l'occasione per rivedere vecchie immagini per esempio il going going io non lo rivedevo da tanto tempo e quindi ecco niente questo è quanto alla fine di questo video non mi rimane che salutarvi augurarvi un buoni fumetti a tutti e ci vediamo alla prossima